ecco sta partendo il cine baston ecco la pompa tic 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 cablaggio vabbè questo mo l'ho aperto e ho levato la protezione tubo dell'aspirazione dell'aria della camera di combustione sostenuto da un pezzo di alluminio eccolo sentite come va eccolo è partito io lo uso sempre a una velocità media anche massima minima mai che la casa da dove sta la stanza è grande cucina e salotto quindi minimo tra sei velocità la terza terza velocità quarta quinta grazie